E' andata avanti con sta storia del materialismo storico, poi si è addormentata sul lavello. Ragazzi, che coinquilina! Fa piano adesso, probabilmente starà dormendo a quest'ora. Dormendo? Alle 4 del pomeriggio? Sì, è strano. Comunque hai voglia di guardare Hamilton? Ah, adoro Hamilton! Sunday lo odia, dice che tu verifica i proprietari di schiavi. Io non sono d'accordo, anche perché la serie è alla fine. Senti, ecco io, non è che... Oh no, vai, fai come se fossi a casa tua. Ok, fico, fico. Aia, cazzo! Scusa tanto, ti ho svegliata? No. Ehi, ma tu sei il fidanzato della figlia dell'ex rock star, giusto? Ah, è piccolo il mondo, vero? Già, posso chiederti un favorone? Di chi hai bisogno? Questa sera la mia band suona, ma il mio co-cantante si è rotto il bacino e ci tocca sostituirla. Non è che ti andrebbe di rimpiazzarla? Ah, penso di potercela fare. Che canzoni vi serve? Vieni con me in garage, ti faccio vedere. Ok, questa è una delle canzoni. Praticamente è gibberish. Sai fare lo gibberish, vero? Perfetto. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Un po' sdolcenato, lo ammetto. È una canzone del Pride, LOL. Come fai a saperlo? Sì, 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 sì. E' una delle mie preferite. Ti direi anche di cosa si tratta, ma non sono sicurissima che la gente capirebbe il messaggio. Tasty? Ah sì, puoi trovarli nella cartella Assets Data Marks, penso. Sono molto politicizzate, quindi penso che mi atterrò alle semplici vocali per il bene del giocatore. TKY! Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!